LA principessa Charlotte ha fatto impazzire i fan realunica figlia del principe William e Kate, duchessa di Cambridge, è uscita con i suoi genitori all'inizio di questo mese per assistere ad alcuni eventi sportivi ai giochi del Commonwealth. Durante la sua giornata fuori, la principessa Charlotte ha visto gareggiare tra nuotatori e giocatori di hockey, si è anche unita a Kate e William durante un impegno più formale con i rappresentanti di Sportside, uno dei patrocini della duchessa che sostiene i giovani atleti e le loro famiglie. I fan reali hanno adorato le reazioni della bambina di sette anni a ciò che stava guardando durante il giorno, poiché ha mostrato candidamente la sua eccitazione e, a volte, la sua noia. Charlotte ha anche mostrato chiaramente il suo affetto per i suoi genitori e uno stretto legame con suo padre, il principe William. E uno scatto condiviso sui social media ha fatto impazzire i fan reali mentre mostra la piccola Charlotte che sembra dare uno sguardo indifferente mentre un sorridente William posa per un selfie con i volontari ai giochi. Lì dopo essere apparsa in una foto scattata durante la sua ultima apparizione pubblica, twittando l'immagine, l'utente dei social media Chiocciola LadyParchi79 ha scherzato, signore, state attenti, la principessa Charlotte non approva il fatto di fare le fan per suo padre. Rispondendo a questo tweet, Chiocciola Moye li ha scritto, reazione brillante e naturale di ogni bambina. Allo stesso modo, Chiocciola Zanna Merrin, ha aggiunto, non vuole assolutamente condividere l'attenzione di papà. Benedicila. E Chiocciola Royali Britannia ha aggiunto, quello è suo padre e non è disposta a condividere. Un utente dei social media che ha affermato di essere la persona che ha scattato il selfie ha anche risposto al tweet originale per condividere la sua esperienza. L'utente twitter con il nome dell'account Chiocciola B9C ha scritto, grazie per tutti i tuoi commenti. Siamo volontari ai giochi e abbiamo chiesto se potevamo fare una foto. Che bella famiglia. 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 Grazie a tutti.